L'unione deve essere unita, deve essere coerente, una volta che è coerente può diventare anche molto operativa e quindi diventare operativa anche utilizzando il soft power, utilizzandolo in maniera molto chirurgica. Non va mai sottovalutata l'enorme importanza che l'Europa può e deve avere nella politica estera. Grazie per la visione!